Giornale Radio Nuova I bar e i ristoranti potranno lavorare solo con consegne a domicilio o da sporto fino alle 22. È vietato spostarsi tra regioni e tra comuni se non per comprovati motivi di lavoro, di salute, di studio o necessità. Tali misure entreranno in vigore domani, 15 novembre. Gli indicatori che hanno determinato l'inserimento nella zona arancione si riferiscono al dato RT e ad uno dei 21 indicatori monitorati, ossia quello che determina la percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi effettuati. Ascoltiamo su questo il commento del presidente Acquaroli. I cittadini marchigiani saranno costretti a stare all'interno dei propri comuni se non per provate motivazioni di salute o di lavoro. Migliaia di attività saranno chiuse perché praticamente l'indice che si è calcolato è un indice che si va a basare sulla settimana scorsa, sulla settimana prima. L'indice che riguardava l'ultima settimana di ottobre era un indice 1,01 che praticamente era come se ci fosse stato un indice di crescita molto 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 basso nella nostra regione. Io invito pure ad empiere questa ordinanza che se è fatta ragionveduta è giusta, se non fatta ragionveduta può essere dannosa per l'economia ma anche per il buon senso che credo che deve sempre regnare forte tra le istituzioni e la cittadinanza della comunità marchigiana. E vediamo ora la situazione dei contagi nelle Marche aggiornati stamane. Sono 779 i nuovi casi di coronavirus riscontrati nel percorso nuove diagnosi su un totale di 4.275 tamponi analizzati. Il rapporto percentuale tra positivi e tamponi è però inferiore rispetto a quello del giorno precedente in cui si erano verificati 740 casi, 32,8% rispetto a 35,7%, considerando solo le nuove diagnosi, 18,2% rispetto al 20,6% tenendo conto del totale dei tamponi. È Ancona la provincia con il numero più alto di contagi 272, seguono Macerata 247, Pesaro Urbino 104, Fermo 102, Ascoli Piceno 54. Questi casi comprendono soggetti sintomatici 114 casi rilevati, contatti in setting domestico 186 casi, contatti stretti di casi positivi 262 casi, contatti in setting lavorativo 15 casi, contatti in ambiente di vita socialità 23 casi, contatti in setting assistenziale 4 casi rilevati, contatti in setting scolastico formativo 18 casi, screening percorso sanitario 3 casi. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, ha ricevuto in municipio mercoledì 12 novembre il dottor Carlo Di Falco, nuovo direttore medico del presidio ospedaliero unico di Macerata Civitanova Marche, Camerino e San Severino Marche, accompagnato dal dottor Giordano Ripa, consigliere delegato funzionale del sindaco alla Sanità. Dopo il benvenuto e una breve presentazione della realtà territoriale maceratese da parte del sindaco Sandro Parcaroli, sono stati affrontati i due temi più scottanti del momento in ambito sanitario, l'emergenza Covid e il futuro ospedale a Macerata. Parcaroli ha sottolineato la ferma volontà e l'urgenza di giungere alla realizzazione del nuovo ospedale di Macerata, in grado di dare risposte efficienti ai bisogni dei cittadini e di superare la situazione logistica e strutturale dell'attuale nosocomio, che sia pure in presenza di alte professionalità, soffre di una situazione di vetustà che va superata al più presto. Il dottor Di Falco, esperto nel campo dell'igiene e organizzazione ospedaliera, ha dato la disponibilità a mettere a disposizione la sua esperienza in questo settore. Il digitale incontra il commercio. In arrivo a Macerata un nuovo servizio a supporto delle attività della ristorazione e del commercio che intendono svolgere il servizio di consegna a domicilio. Allo studio tre azioni combinate, due delle quali saranno attive già dal mese di dicembre, mentre per la terza ci si sta adoperando affinché prenda il via da gennaio. Si parte dalla creazione di una pagina nel portale istituzionale del comune, dove le attività potranno inserire la loro ragione sociale e descrivere il servizio che offrono. La seconda azione riguarda la collaborazione con Circo, la start-up vincitrice del bando Start del comune di Macerata, che proporrà ai commercianti l'utilizzo gratuito per tre mesi della Circo App, dedicata al mondo produttivo. Il terzo step, la cui operatività è prevista per il mese di gennaio, consiste nel fornire un servizio di consegna a domicilio effettuato su tutto il territorio comunale tramite un operatore professionale del settore. Restiamo a Macerata, sostabreve gratuita di 30 minuti in corso Cairoli e in corso Cavour, dal primo dicembre al via la sperimentazione. Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera approvata l'altro ieri che modifica parzialmente il contratto di servizio in essere con l'APM e da quindi il via ad una nuova modalità di sosta più favorevole all'utenza. Il nuovo regime agevolato in corso Cairoli e in corso Cavour partirà il primo dicembre e permetterà una maggiore rotazione dell'utilizzo degli stalli di sosta a pagamento. I cittadini infatti potranno avvalersi di un'iniziale sosta breve gratuita di 30 minuti, non prorogabili, con l'obbligo di esposizione del disco orario e l'applicazione, decorso tale periodo, della tariffa ordinaria di 1,20 euro. Nuovo atto dell'amministrazione comunale di Civitanova Marche nella politica di vicinanza alle imprese e ai cittadini. Approvati ulteriori interventi volti ad aiutare le imprese e le famiglie colpite dagli effetti negativi della pandemia. Nello specifico, l'Aggiunta Ciarapica ha deliberato il rinvio, sia per le famiglie che per le imprese, al 31 gennaio 2021, del termine per il pagamento della quarta rata della Tari in scadenza il 30 novembre 2020. Previsto inoltre l'esonero del pagamento della quarta rata della tassa rifiuti 2020 per tutte quelle aziende che hanno subito la chiusura della propria attività nel corso dell'anno 2020 per effetto dei provvedimenti governativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19. Vengono riaperti inoltre i termini per la presentazione delle domande e la proroga delle date di scadenza di presentazione delle istanze online per i contributi a sostegno delle imprese danneggiate dall'emergenza da Covid-19, TOSAP, Servizio Idrico, Imposta di Pubblicità, fissando la nuova scadenza alle ore 13 del giorno 31 gennaio 2021, ad esclusione delle istanze online per la richiesta di contributo Tari in quanto concesso senza domanda da parte delle aziende interessate. Continua l'impegno in prima linea dell'amministrazione comunale di Recanati, guidata dal sindaco Bravi, nel sostenere le famiglie in difficoltà e gli operatori economici della città, con l'erogazione di altri 60.000 euro per l'acquisto di beni e servizi da spendere con gli esercenti recanatesi convenzionati. Un progetto finalizzato a sostenere le famiglie residenti a Recanati, con due o più figli a carico di età compresa tra 0 e 26 anni, con un reddito ISEO DSU 2020 inferiore o pari ad euro 23.911,60, attraverso speciali promozioni dei beni e servizi e l'erogazione di voucher elettronici fino all'esaurimento dei 60.000 euro. Le famiglie beneficiarie potranno accedere al credito mediante l'esibizione della tessera sanitaria fino al 31 dicembre 2021. La pandemia non ferma il Career Day dell'Università di Macerata, che anche nella sua veste virtuale ha offerto a centinaia di studenti la possibilità di confrontarsi direttamente con le imprese, sostenendo colloqui, partecipando a incontri formativi e informativi. Dal 26 al 30 ottobre si è tenuta una fase preparatoria che ha permesso ai partecipanti di apprendere le strategie per affrontare il colloquio di lavoro, di scoprire le opportunità di mobilità professionale in Europa e di conoscere le aziende attraverso workshop che hanno totalizzato oltre 1000 iscrizioni. Sono stati circa 400 gli studenti che si sono registrati per incontrare le 40 aziende partecipanti, 2739 le candidature inviate. Soddisfatto il rettore Francesco Adornato. Non soltanto l'Ateneo cresce in termini di scritti e di matricoli, ma affronta direi con fierezza e con sicurezza ancora una volta il rapporto con le imprese dando la possibilità ai suoi studenti di confrontarsi col lavoro e ragionare, approfondire e immaginare il futuro lavorativo dopo i loro studi. Sono 1061 i partecipanti alla 32esima edizione 2021 del concorso di musicultura. In 32 anni non erano mai stati così tanti. Il dato è ancora più significativo se si considera che possono partecipare al concorso solo artisti che scrivono le canzoni che interpretano. Direi che almeno due cose sono chiare. La prima è che la pandemia non ha spento l'urgenza di esprimersi attraverso le canzoni. La seconda è che chi coltiva aspirazioni artistiche percepisce musicultura come un banco di prova credibile. Sono le prime parole del direttore artistico di musicultura Ezio Nannipieri. Musicultura entrerà nel vivo nella prossima primavera con le audizioni live che vedranno confluire a macerata alcune centinaia di musicisti da tutta Italia e dalle quali usciranno le 16 proposte finaliste. L'iter di selezione successivo del concorso si snoderà nei mesi di marzo, aprile e maggio per culminare a giugno all'Arena Sferisterio. Volley domani ore 17 a porte chiuse con diretta Rai Sport all'Eurosuole Forum va in scena la sfida numero 35 tra Cucine Lube, Civitanova e Tonno Callipo, Calabria, Vibo, Valencia. Di cui 17 nei 19 confronti in casa, mentre i calabresi si sono imposti in sei occasioni. Sono 15 i successi consecutivi dei biancorossi. L'ultima volta che le due squadre si sono trovate faccia a faccia nell'undicesima giornata di Regular Season è accaduto nella stagione 2012-2013, quando la Lube si impose 3-1 al Fonte Scodella di Macerata. Nelle ultime due sfide disputate all'Eurosuole Forum, invece, Civitanova ha avuto la meglio con il massimo scarto in entrambe le occasioni. Nell'annata 2017-2018, Civitanova ha centrato lo scarto massimo contro i calabresi 30 punti, imponendosi con il risultato di 3-1 nella prima giornata di ritorno tra le mura amiche, grazie anche alla prova di Juan Torena. Stregata la doppia sfida di Regular Season 2011-2012, che ha visto il successo della Callipo in quattro set tra le mura amiche e al tie-break nelle Marche. Ancora volley causa rinvio della sfida contro Mosca a Bruno Bolzano. A data da destinarsi saranno la MedStor Macerata e la Sama Porto Maggiore a giocare nel recupero della prima giornata. Per i biancorossi è ancora rimandato l'esordio al Banca Macerata Forum. Arriva invece la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Brugherio. Con la prima gara è arrivata una sconfitta, ma la squadra è in crescita, arrivando da un momento difficile di preparazione condizionato dallo stop forzato causa Covid. Dobbiamo affrontare questa fase, un po' tutte le società sono in difficoltà, conferma il coach Adriano Dipinto. Non è facile preparare le partite quando ogni domenica può cambiare l'avversario, ma in un certo senso riporta il gioco alla sua essenza. Ci spinge a concentrarci su di noi, a essere sempre pronti a prescindere dall'altra squadra, a mettere in campo il nostro gioco. Il tempo nelle marche. Previsioni per domenica 15 novembre. Sulla nostra regione cielo nuvoloso per nubi basse stratificate. Precipitazioni assenti, temperature senza variazioni di rilievo. Venti deboli prevalentemente dai quadranti meridionali, con intensità in aumento dalla serata, nelle zone montane, mare quasi calmo. Durante le ore notturne, formazione di foschie e banchi di nebbia nei fondovalle e zone di pianura. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.